Questioni migranti, una questione che riguarda anche il comune di Subbiano, intanto come è vissuta dalla popolazione, lei che insomma ha la delega ai servizi sociali? Io ho il polso della situazione anche, è sentita molto, sono molto preoccupati prima di tutto perché questi arrivi arrivano da giorno alla notte, è improvvisato anche l'arrivo e le comunicazioni anche da parte della prefettura non è che giungono con qualche giorno d'anticipo, arrivano proprio nell'imminenza del trasferimento dei migranti che vengono trasferiti durante la notte la popolazione è molto preoccupata perché i problemi di sicurezza naturalmente arriveranno soprattutto se non si sa bene qual è il numero definitivo dei migranti che verranno poi assegnati al comune Subbiano quindi la preoccupazione dell'assessore e anche dell'amministrazione comunale è di sapere qual è innanzitutto il numero definitivo dei migranti proprio per poter anche preparare la popolazione e comunque tranquillizzarla che non arriveranno, che sarà comunque una percentuale proporzionata al numero degli abitanti Ci sono più di 20 migranti nel vostro territorio, il numero limite però per il comune di Subbiano qual è? Da informazioni assunte dalla vice prefetto di Arezzo ne dovrebbero arrivare a Subbiano 31, il numero massimo fatti salve però diverse indicazioni da parte del ministero all'interno